Buongiorno, sono in viaggio da Milano a Napoli e volevo innanzitutto ringraziarti per avermi dato la possibilità di insiedere il mio libro in eccellenze digitali italiane, il mio libro che come ben sai si occupa di quello che è una visione ventennale delle esperienze avute dei processi di vendita, quindi dei metodi di vendita dai contatti ai contratti, quindi ti ringrazio ancora a breve saremo su eccellenze digitali italiane che consiglio a tutti di esserci e di utilizzare questo canale che oggi è ancora di più, è un canale utile per far sì che ognuno di noi possa condividere le proprie esperienze avute nel percorso professionale. Grazie Vittorio, grazie sempre a te per la disponibilità, forza, eccellenze digitali italiane, ciao!